Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 Oh le pentine stanno crescendo, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Raft, il quarto episodio della serie Penso molto probabilmente l'ultimo, in cui vedremo di riuscire a cercare di fare qualcosa di meglio in questo episodio Allora, prima di partire col video ragazzoli, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti Per i suggerimenti e per il supporto che state dando e che darete a questa serie, anche se penso che questo sia l'ultimo episodio Noi, vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Twitter E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni, le potete fare perché trovate il link in descrizione per fare le donazioni su Paypal Detto questo, signori miei, partiamo con il video Ok signori miei, il sole sta sorgendo, vediamo un attimino se riusciamo a farci un po' di cose Allora, riusciamo a farci la canna da pesca? No, perché ci manca la corda Facciamo un po' di corda, che dovremmo riuscirne a farne un bel po', perfetto Possiamo adesso farci la canna da pesca? Perfetto Possiamo farci la canna da pesca, signori miei, possiamo tornare a pescare Che fortuna Ora, perfetto Vediamo di recuperare qualche pesce e cercare di riuscire a mangiare praticamente Un barillo, 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 un barillo Tiralo dentro, tiralo dentro, tiralo dentro No, ma se sono un incapace ragazzi, sono un incapace Dai, il barillo Ma porca di una paletta ambriaca Abbiamo perso il barillo Il barillo che era due passi da noi l'abbiamo perso Riusciamo ad andare verso quel, tieni premuto per andare, dobbiamo andare di là zio, devo andare verso quella cosa abbandonata là sotto, nel frattempo cerchiamo di pescare anche, sarebbe una cosa gradita e buona riuscire a pescare qualche pesce per poter mangiare un pochetto, che stiamo spostando completamente di lato, lo stiamo traccando in maniera sbagliata però va bene, però va bene. Una vecchia scarpa, abbiamo preso una vecchia scarpa signorini, ma stiamo scherzando? A me servono i pesci e prendo le vecchie scarpe, ok, ok, allora fermi tutti, fermi tutti, cerchiamo di portarci, l'abbiamo superata perché stavo pescando di brutto raga, devi gire da quel lato, devi gire da quel lato, basta pescare porca miseria, smetta di pescare, va bene, lancio al volo veloce 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 recuperiamo, qui dovrebbe esserci una cassa, infatti, riesci a prendere un pochetto, nella cassa, perfetto, ora qui sta affondando, noi dobbiamo riuscire a rientrare velocemente, sali, 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 prima che lo squallo ci mangia di brutto, sali, sali, ma è stupido, e lo sapevo io, ma porca di... devi salire, devi salire, ma è scemo raga, cioè, c'ho il personaggio che è scemo, riesci a salire, oh, no, vabbè, oh, ce l'abbiamo fatta, allora, metti asse, perfetto, metti pure il bear pesce, metti il pappano crudo lì, quello che cavolo è, no, 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 questo lo lasciamolo stare, qui, come siamo combinati, c'ho un poco di acqua da poter bere, sì, no, 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 c'è lo squallo Gigi che sta rompendo le scatole, squallo Gigi, vattene, vattene, vattene Gigi, non avrai mai la mia barca, vattene, oh, siamo riusciti a salvare la barca, signorini, siamo riusciti a salvare la barca, allora, questa dovrei poterla bere, no, è vuota, ok, qua c'è dell'acqua, non c'è sta nulla, bello così, allora, mettiamo questa qua, questa la mettiamo qui e questa si sta cuocendo, ok, così possiamo mangiare e bere, detto questo, signorini, io penso che la nostra barca la possiamo allargare un attimino e renderla un poco più sicura, può essere? Ok, ok, quantomeno non rischiamo di cadere a mare, signorini, abbiamo allargato un attimino, qua le nostre piantine stanno a crescere, raccogli, perché già ci stanno le patate qua, raccogli, raccogli con me, raccogli, che cosa mi ha fatto raccogliere? Non lo so, lo so che ho fame, zio, un attimo, porca miseria, lo so che ho fame, questo mettilo qua, perfetto, leva questo, io l'unica cosa che voglio fare è riuscire a cercare di fare in questo video, signori miei, raccogli questo e magnatelo, dai, dai, dai che ce la fai, dai che ce la fai, ho a posto, perfetto, ora mettiamo quest'altro, qui, e si sta cuocendo pure questo, mettiamo la nostra bellissima tazza, riempiamo con acqua dolce e beviamo, signori miei, oh, ok, siamo tornati un attimino in ballo, riusciamo a ballare bene, signori, ok, qui dobbiamo fare qualcosa di particolare, no, raccogli, eh, ma che cosa, no, dimmi patate, ho raccolto le patate, no, no, pianta patata cruda, e pianta pure qua la patata cruda, ok, ne abbiamo fatte di due, di tre, ne abbiamo fatte due, ok, raccogliamo questi, perfetto, raccogliamo questi, io purtroppo non vedo isole all'orizzonte, raga, mi sarebbe piaciuto fare un, magari l'ultimo video in cui colonizzavamo un'isola, o quantomeno conquistavamo qualcosa, ma attualmente niente in vista, signori miei, niente in vista, Ok, signori, intanto abbiamo fatto un altro retino, un altro retino che andiamo a piazzare qui, eh, ruota, lo mettiamo così, perfetto, e poi andiamo a mettere questo qua, questo qua, così abbiamo un punto di passaggio qui, e anche qua davanti andiamo un attimino a chiudere, per rendere tutta la nostra zatta un po' più sicura, un po' più sicura, lo squallo Gigi ci sta venendo ad attaccare, Gigi ci provaci che io sono pronto con il mio bell'artione, lo sapevo io che Gigi sarebbe arrivato, lo sapevo io, e io ti colpisco, ti colpisco, ti colpisco, ok, ci siamo liberati di Gigi, ci siamo liberati di Gigi, raga, nessun'isola all'orizzonte, nessun'isola all'orizzonte, la nostra navigazione è continua, allora, io l'unica cosa, avevo visto che c'erano, ecco, progetti antenna, che non so cosa siano queste cose, raga, antenna, viene utilizzata insieme al ricevitore, e ma io il ricevitore non ci sta, vediamo un attimino se possiamo creare qualcosa qui, no, ho sbagliato, possiamo creare qualcosa qui nel banco da lavoro, vediamo, allora, griglia migliorata, vaso di coltivazione grande, pennello, vaso di coltivazione, scolchè, ehi, ehi, ma quando i pappagalli, i pappagalli si, si stanno a mangiare piantine, ma uno qua non può studiare che te magnano tutto, Poi c'è la sedia, la luce, perché non scende, ok, questo che cos'è, spaventapasseri, amaca, fonditore, non vedo niente di interessante, depuratore migliorato, bombole, batteria, addirittura, ma che dobbiamo fare noi queste cose, bottiglia vuota, Oh, guardate quanti belli oggetti, stiamo allargando pesantemente la nostra zatta, ce ne sono isola all'orizzonte, raga, non c'è un'isola, non c'è un'isola, porca di una paletta ambriaca, non c'è sta un'isola, porca miseria, dai, evitiamo questi due contenitori, che dovrebbero arrivare precisi, precisi nei nostri retini, vediamo se riusciamo a prenderli entrambi, Uno è lì e l'altro è lì, perfetto, bella così, uno e due, ok, isole, isole, non c'è sta un'isola nel raggio di 8 km, perfetto, ottimo, 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 Raga, ho scoperto che le patate si potevano cuocere, ottimo, le patate si possono cuocere, intanto ci mangiamo sto bel pesce, così la fame si torna un attimino a sistemare, perfetto, Uh, ragazzi, davanti a noi un'isola, un'isola, oh, finalmente riusciamo a fare qualcosa di interessante, dobbiamo abbordare quell'isola, segnale me, dobbiamo riuscire a conquistare quell'isola, Voglio vedere se riusciamo a fare qualcosa di interessante, daie, daie, andiamo sull'isola, mi sento Jack Sparrow, raga, mi sento Jack Sparrow, isola, sei nostra, da cazzo la ci salgo io su quell'isola, Ma un'isoletta un po' più piccola, no, qualcosa di meno grosso, come ci salgo io su quell'isola, ma che cavolo, come ci salgo io su quell'isola, raga, non vedo un punto per poterci salire, Intanto andiamoci a sbattere, intanto andiamoci a sbattere, raga, dopodiché abbiamo trovato un'isola, là c'era un'imbarcazione che abbiamo perso, però va bene, Non fa niente, non facciamoci caso, non facciamoci caso, ci stiamo andando a sbattere precisi, raga, ci stiamo andando a sbattere precisi, riusciamo a, R, devi, no, 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 devi girare leggermente di là, perfetto, così andiamo all'abordaggio dell'isola, proprio a schiantarti così, bravo, 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 schiantati sull'isola, tra l'altro sta arrivando anche notte, e io come ci salgo sull'isola? C'è un piccolissimo problema, ci siamo schiantati pesantemente sull'isola, ok, e io riesco a salire in qualche maniera, salve, vorrei salire sull'isola, posso salire sull'isola in qualche maniera? No, no, sono cascato a mare vicino allo squalo, proprio quando si dice, la fortuna aiuta, c'è un modo per salire su quest'isola? Non può essere tutta così, dai, dai, qua è bassa, qua è bassa, qua è bassa, mamma mia, poi questo non sa salire manco, no, 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 raga, è un'isola, dobbiamo riuscire a salire su quest'isola, Allora, dobbiamo riuscire a salire su quest'isola, allora, andando risaliamo sulla nostra zappera, zio, zio, cortesemente, aia lo squalo, mannaggia a te, allora, stiamo fermi su qui, ok, vediamo cosa riusciamo a fare Raga, possiamo fare la scala, voglio fare la scala, cosa ti serve? Qui non la posso mettere, qui la posso mettere, zitti, 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 dove la posso mettere questa scala? Così la posso mettere, più avanti, più avanti, più avanti, qui la posso, no, qui non la posso mettere, dove la posso mettere questa scala? Qua la posso mettere? Qui, un po' più indietro? No, un po' più avanti, perché lì c'è la, 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 la roccia, mannaggia, eh, aspetta, 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 fermi tutti, fermi tutti, girala, 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 ok? Qui la posso mettere? Qui, qui, così? Ah, ma porca miseria, qui la posso mettere? No, perché c'è la roccia, dove la posso mettere questa cazzarola di scala? Dai, dai, abbiamo la scala, raga, abbiamo la scala, se la metto qui, se non vuoi riesco a salire? Non lo so, ma ci proviamo, oh, abbiamo la scala, raga, salta! Dove cazzo la stanno? Sono ancora sulla mia barca, non voglio più la scala, garanzamente, sì, teniamoci la patata in mano Siamo sull'isola, ragazzi, siamo sull'isola, spettacolo, raccogli i fiori blu, che servono? Non lo so, però va bene, siamo sull'isola, raccogliamo, raccogliamo qualsiasi cosa, questa pianta la possiamo raccogliere? No, possiamo raccogliere? Che cosa possiamo raccogliere? Siamo sull'isola, raccogli fiore bianco, oh, interessante, di là non c'è nulla Abbiamo colonizzato l'isola, signori miei! Questo come lo butto a terra? Come lo rompo questo? Possiamo prendere solamente fiori, ma che isola stupida è? Raccogli i ananas, oh, l'ananas Semi di ananas, che scusa, raccogli i semi di ananas, perché me li fa buttare a terra? Perché abbiamo l'inventario pieno, ok, butta la scarpa, che tanto la scarpa non ci serve a nulla Non ci serve a nulla, perfetto, recuperiamo l'ananas, che l'ananas è importante, grazie Ragazzi, siamo tornati sulla zattera per fare, per fare l'ascia Almeno vediamo di recuperare, e dai, porca miseria, però Oh, qui, butta fuori sto coso, che me ne frega a me Recupriamo l'ascia Ok, abbiamo l'ascia, signori miei Ok, ce l'abbiamo fatta Ora, con questa io dovrei riuscire a recuperare il legno Sì! Fogli di palma pure, bella così Seme di mango, abbiamo preso pure un mango Mangadillo, raga, mangadillo, abbiamo preso pure un mango, ok Grandi progressi, grandi progressi, raga Siamo riusciti a colonizzare l'isola e a portarci a casa tanti begli alberi Prendiamo pure quest'albero, che sarà lo stesso di prima del mango Stiamo regolando un sacco di poti Stiamo regolando sia palme che assi Perfetto, bello così Il problema è che stiamo a perdere tutto, ma porca Ricopriamo pure questa, che sicuramente sarà Coconut, cocco! Attenzione, il seme di palma è cocco, ottimo Tanto sta sorgendo non è del sole Allora, ragazzuoli Io per questo video mi fermo qua, signori miei Questa dovrebbe essere l'ultima puntata di... Qui tra l'altro ci sono scatoloni, raccogli ananas Cosa abbiamo buttato? Raccogli ananas? No, non devi prendere... Perché continui a tirare ananas, zio? Va bene, superfluo E io per questo video mi fermo qua, ragazzuoli Questo è l'ultimo episodio di Raft Abbiamo con lo zetto di isola Siamo riusciti ad ottenere nuovi materiali Ma ci fermeremo qui con questa serie Perché domenica prossima uscirà la nuova serie Se volete qualche altro episodio Fatemelo sapere nei commenti E non lo so, ditemi voi Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per i like Per i commenti, per i suggerimenti E per tutto quanto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga, ciao! Ciao!